Avere una casa propria è il sogno di tanti, probabilmente della maggior parte della popolazione. Molto spesso però non si sa con che modalità si vuole ottenere una casa, comprarla, affittarla? Noi ci siamo chiesti quali sono i pro e i contro di entrambe le scelte e abbiamo vagliato una serie di possibilità che potrebbero presentarsi se vi trovaste di fronte a questa decisione. Prima di tutto se volete comprarla, dovete scrutare con occhio attento e vigile il mercato. Decidete una zona e informatevi sui diversi prezzi che può avere una casa con la stessa metratura. Sul sito del New York Times potete utilizzare un equalizzatore dove inserire alcuni parametri quali tasso del mutuo, durata, valore, dell'immobile, aumento medio del valore della casa e una serie di altri fattori che vi aiuteranno ad essere autonomi nel decidere se comprare o prendere una casa in affitto. Informatevi via internet ma il segreto sta nel passare una giornata a parlare con le persone del quartiere che pensate possa diventare il vostro. Entrare in un bar o sedervi nel perchetto pubblico e chiedere che cosa ne pensa la gente vi servirà quindi per 1. Capire il valore intrinseco della zona. Probabilmente non vi daranno informazioni precise sul prezzo ma sulla qualità della vita di quel quartiere sì. 2. Captare notizie su immobili che magari sono in vendita tramite il passaparola, conosco un amico che ha un appartamento qui vicino e sta cercando qualcuno che lo compri, questo vi permetterà di risparmiare sul costo eventuale di un'agenzia immobiliare. 3. Se c'è qualche gabola strana come zone più pericolose, le persone che tendono sempre a lamentarsi con gli altri non si dimenticheranno certo di farvelo notare. Una volta decisa la zona, vi ritroverete ancora con il dubbio se affittarla o comprarla ma almeno avrete ben chiaro che possibilità ci sono nell'area dove volete vivere. Ora torniamo al dilemma principale, comprare o affittare? Come sempre in queste cose ci sono scuole di pensiero diverse. Secondo la buona norma popolare, investire nell'acquistare una casa pagando un mutuo e non in un affitto è un investimento a lungo. Termine sensato che ti permetterà un giorno di avere qualcosa di solo tuo. Secondo altri, scegliere di andare in affitto e investire il resto dei nostri soldi potrebbe essere la scelta meno convenzionale ma più azzecata. Acquistando un immobile si è infatti esposti all'andamento del mercato immobiliare, la cui tradizionale fama di asset sicuro è stata frantumata con la conseguenza di una crisi mondiale senza precedenti, mentre affittando sarà possibile utilizzare i risparmi per acquistare altri beni. Immaginiamo perciò di essere un individuo disciplinato, che non sperpera il denaro disponibile come differenza tra mutuo e affitto, e che investe queste somme ogni anno assieme all'importo che non è necessario come pagamento up front della casa al momento della stipulazione del mutuo con la banca. Stiamo quindi supponendo due situazioni in cui la stessa persona, per i 30 anni di durata del mutuo, ha sempre a disposizione ogni mese lo stesso ammontare di reddito. Si comprende così che la scelta è tutta finanziaria ed è più arte che scienza. Il mercato immobiliare salirà, e di quanto? Un portafoglio bilanciato di pari volatilità, circa 60 bond, 40 azioni, frutterà invece rendimenti maggiori e permetterà di avere un ammontare in titoli maggiore del valore dell'immobile al termine dei 30 anni? Qualsiasi scelta voi prendiate, cercate un posto che sentiate come vostro e vi faccia stare bene, che esso sia una situazione temporanea o per tutta la vita.